Le splendide immagini di questo bellissimo falco sono di Edoardo Simula, 25 anni di Porto Torres, e Salvatore Frau, 29 anni di Nuoro. Entrambi sono laureati in scienze naturali e sono fotografi naturalisti. Coltivano da tempo questa passione. La Sardegna è infatti una straordinaria terra che ha delle risorse faunistiche inestimabili. Edoardo e Salvatore anche per questo organizzano a Sassar il 14 e 15 gennaio un interessante workshop rapace di Sardegna che si occuperà anche di fotografia naturalistica e birdwatching, in collaborazione con la facoltà di veterinaria di Sassari e l'associazione Occhi di Falco di Monica Aru. Ce lo spiegano gli stessi protagonisti. La nostra isola avvanta un numero elevato di specie, alcune delle quali sono anche endemiche, come il Barbagiani di Sardegna, l'Astore Sardo, lo Sparviere Sardo. Per questo abbiamo deciso di effettuare questo corso di due giorni a Sassari che si svolgerà il 14 e il 15 di gennaio. Durante le lezioni parleremo della biologia delle specie, del riconoscimento, dell'osservazione e secondariamente delle tecniche fotografiche. Un aspetto fondamentale che tratteremo sarà l'etica, il rispetto degli animali e quindi un approccio all'osservazione non invasivo. Sono in corso vari progetti di tutela e conservazione ma si dovrebbe fare di più.